Ancora sangue sulle strade d'Abruzzo, questa volta a Raiano, dove ieri notte verso le 23 hanno perso la vita due uomini in un incidente frontale tra due auto lungo via del Tratturo. Roberto Alimecco, 50 anni, di Castelvecchio-Subeco, e Gennaro Accili, 77 anni, di Acciano, sono morti sul colpo dopo che la Fiat 600, su cui viaggiavano in direzione della Valle Subequana a rientro da una serata, si è scontrata frontalmente con una lancia Ypsilon condotta da un 29enne di Corfinio e a bordo della quale viaggiavano in 5 tutti giovanissimi. Due dei ragazzi sono rimasti feriti nell'incidente, per fortuna non in modo grave, con accertamenti disposti solo su una 17enne di Sulmona, che ha riportato però ferite non particolarmente gravi. Per i due uomini, invece, non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, chiamati da una ragazza che si trovava a passare, i due erano già morti. La procura della Repubblica di Sulmona, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ha disposto il trasferimento delle salme direttamente all'Aquila per eseguire nelle prossime ore l'autopsia, disponendo al contempo una perizia cinematica per ricostruire bene la dinamica dell'incidente. Da quanto raccontato dai testimoni e in parte accertato dai carabinieri, la Fiat 600, che era condotta da Accili, avendo il cinquantenne e la patente sospesa, avrebbe invaso la corsia opposta, non lasciando possibilità al 29enne, risultato del tutto negativo agli esami ematici, di evitare lo scontro. Solo dopo la perizia e l'esame autoptico e tossicologico sulle vittime, si potranno capire meglio i motivi dell'incidente che, anche in Valle Peligna, macchia di sangue questo ponte festivo sulle strade.